Cazzo che bella acqua cristallina Cosa ne pensi di questo posto? Beh, non è niente male Tu cosa ne pensi? È molto carino C'è anche il video Cosa ne pensi di questo posto? Ma è un complimento Cosa ne pensi di questa giornata? Prima del pranzo Prima del pranzo è brutto Tu maga Hai sbagliato strada Oggi cosa mangiamo paro? Facci un menù Mangiamo asparagi con erba selvatica Poi carpe della diga con uvetta Siamo arrivati in agriturismo Noi ancora pronto Pare incazzato La fame è troppa Mi sembra anche giusto Cosa ne pensi di questo posto? È molto bellino Poca figa La location Lascia un po' a desiderare Ma il cibo Scarseggia Direi che è abbastanza accettabile La location Piero 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 Pedro È senco Dopo il terzo che si beve Dillo da di un macchino Piero Pranzo Pranzo Eh? E' già finito Adesso doveva arrivare Se arrivavano troppo di antipasso Non ci sono Pienito Ci abbiamo preso Sia che ho preso gusto Ci abbiamo Con cinque minuti Neanche abbiamo vinto Non c'è neanche cinque minuti Il pane Guarda Mettili il sugo Ti do un consiglio Non metti il piatto Non metti il piatto Cazzo Poi gliela in bianco Fai così Poi gliela 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 Guarda come si fa Mi chiamavano Metti E mangia Mettibile Sei pieno ippo Parecchio Tutricio Ti ha imagine Assteca Che cosa hai mangiato? Che cosa hai mangiato? Che cosa hai mangiato? Che cosa hai mangiato? E' bene anche, ne ho bevuto solo acqua Che cosa hai mangiato? Che cosa hai mangiato?